...dipinto, c'è proprio un quadro, si vedono proprio le pennellate, si chiama Beeple ed è appunto dello Skyline di New York e questo è l'ultimo video nell'anno quindi io spero che quest'anno vabbè non dico niente lo sto dando un po' così però il resoconto dell'anno e i buoni propositi per l'anno nuovo farò un video ma sul secondo canale e quindi questo appunto è l'ultimo video dell'anno e spero comunque che da parte mia io vi ho pregato un anno pieno di relax e grazie insomma di esserci sempre e di sostenermi perché quest'anno lavorativamente ho avuto tantissime soddisfazioni ed è anche grazie a voi quindi sempre grazie oggi sono qui per fare l'annuale video di regali di Natale, Capodanno era indirizzo se farlo sul secondo canale che era presa o su questo ma alla fine talmente è stata una tradizione che lo faccio su questo e prima di cominciare però con questo show and tell classicissimo voglio ringraziare i cori per aver sponsorizzato questa piccola parte di video in particolare oggi voglio mostrarvi delle cose molto intelligenti da avere sempre in casa e cioè questi succhi pronti in particolare oggi ho il pesto verde sempre vegan il ragù formato bello grande il pesto rosso da ottenere sempre in casa se si è fretta una volta ma soprattutto gli ho dato esempio a mio padre o a mia suocera in modo che quando io sono a pranzo a cena da loro non abbiano difficoltà a cucinarmi qualcosa di diverso ma possano fare qualcosa di già pronto e veloce così e tolgo un po' la difficoltà appunto a tutti ho anche un codice sconto che è chiaracolosa del 5% sul sito di coro e vi lascio tutti i prodotti che vi ho fatto vedere il link qui sotto in descrizione ora cominciamo con i regali non vi aspettate chissà cosa non vi aspettate una quantità esagerata di regali perché in generale anche fra amici non ci facciamo così tanti regali per il compleanno a meno che io non faccio una festa cosa che io non ho fatto per non mi sembrava il caso quest'anno di rischiare ancora di più prima delle vacanze e delle festività non mi sembrava il caso va bene così allora cominciamo con il compleanno in realtà ho praticamente solo una cosa da mostrarvi che è questo cappotto magari vi mettono anche un video in cui lo indosso purtroppo si è sporcato perché a me mi è saltata addosso con le sue zampagge bagnate ed è bianco appunto e è lungo elegantissima si chiude appunto in questo modo con questi bottoni bianchi è un bianco sporco e l'avevo addocchiato l'avevo detto a mio marito questo è regalo di mio marito l'avevo detto a mio marito e in realtà me l'ha regalato un po' di tempo fa ma valeva come regalo di compleanno ed è meraviglioso questo per chi fosse interessato è di Max Mara Studio le cose costano un po' effettivamente però un cappotto di questo genere è un cappotto per la vita tecnicamente è difficile abbastanza cambiare taglia di cappotto comunque una cosa che dovrebbe durarti dovrebbe anche adattarsi e si mi va a tenerlo per vent'anni insomma è un investimento si magari mi avrò messo un video in cui si vede indossato perché è bellissimo poi i miei genitori mi hanno regalato in realtà una tesserina un buono del per andare dall'estetista e io l'ho sfruttato lo sto sfruttando per cominciare l'epilazione laser non so se conosciate questa insomma tecnologia ma penso di sì comunque l'epilazione laser è il laser che toglie appunto i peli in maniera definitiva e sicuro vi parlerò di come funziona della mia esperienza e tutto nel secondo canale di cui vi lascio il link qui sotto si chiama chiara presa e sono molto soddisfatta con i contenuti di come lo sto gestendo quindi sono massa presi darci un'occhiata e quindi se ne parlerò a parte comunque mi hanno regalato questo e i miei sono stati veramente generosi quest'anno comunque mi hanno fatto due regali molto belli i miei suoi invece per il compleanno mi hanno regalato questa piantina che mi piaceva fino a tutti abbiamo detto che mi piaceva una pianta è sempre proprio un regalo perfetto per me tra l'altro mi sa che domani andrò in serra e mi prenderò almeno un'altra a me piacciono tanto queste piantine piccoline perché sono molto più gestibili di quelle grandi e impegnative e non mi ricordo come si chiama ma magari vi metto il nome in sovraimpressione che è composta tutti questi pallini sembrano chicchi di pisello ed è meravigliosa secondo me poi pian piano cresce è pendente è bellissima è veramente meravigliosa regalo super apprezzato e ha poi tra l'altro ricevuto un regalo che ho mostrato nelle storie anche da pure lei e da Luciano Saparte Luciano Saparte si vede qui mi ha regalato quel mazzo di fiori di Colvin che si vede quel mazzo di fiori che sta durando da due settimane è una cosa incredibile una settimana bellissima invece per lei mi ha regalato una tagghetta personalizzata con la scritta sveveami bellissima e poi come ultimo regalo di comple ho andato questo regalo di Natale poi per finire mi sono fatta un po' di autoregali che in realtà io considero tutte le cose che compro che non sono vestibili le considero autoregali ecco però in particolare sotto il periodo di Natale del mio compleanno ecco questo era quello questo muravolo mi lavo da una vita ed è faccio un po' di tracing aspettate si chiama e le proteine dove le prendi di Elisabetta e Federica Pennacchioni e che è il coroso manzarzano e questo è il loro secondo libro io ho le foto del primo che mi avevano inviato che mi è piaciuto da mattina sono bravissime e questo appunto l'ho preso in libreria ed è ha un'introduzione di teoria e poi ha tutte queste ricette tutte a base di legumi e proteine vegetali ceni indiscussi e vado a provarli tutti le adoro io veramente c'è grandissima fan di Elisabetta e Federica mi piacciono tantissimo il loro modo di fare le loro ricette che sono sempre una garanzia consigliatissima veramente straconsigliato faccio vedere magari alcune immagini non lo so tipo anche purè di fave dei geni ci sono anche dei dolci con i legumi bellissime tirami tirami sul bistecchio ne vogliamo parlare e quindi appena arrivato a casa l'ho spugliato tutta contenta bellissimo super consigliato sia il primo che questo un altro libro sempre di cucina che mi sono presa è questo i dolci di Tornin Su di Jasmine lei la seguo su youtube e lei fa ricette tutte senza lattosio perché penso che non so se lei o i suoi compagni siano intolleranti comunque ma sono tutti dolci a parte il tuo trecetto alla fine a parte il tuo trecetto alla fine biscotti torte eccetera anche i suoi ricetti sono veramente validi mi piacciono tantissimo mi piace un sacco l'estetica guarda che bello dentro meraviglioso è bellissimo tutti i biscottini eccetera non potevo non potevo non averlo e tra l'altro mi fa veramente piacere proprio comprare questi libri di creator online sarà che capisco il lavoro che ci posso comprendere il lavoro che c'è dietro e tra l'altro i miei libri di cucina in generale di cucina vegetale sono la mia grandissima passione e ce li prenderei tutti quindi indipendentemente però questi due questi due mi ispiravano tantissimo li volevo però non ho avuto sicuramente un po' pautro che pauti comunque molti di questi dolci sono proprio vegani anche senza uova quindi comodissimo alcuni anche senza crotire ok e poi mi sono anche regalata il libro di my secret case io adoro la loro immagina non ho mai provato nulla del loro brand ancora però fa una divulgazione importantissima e mi piace tantissimo il loro modo di comunicare quindi anche questo lo volevo assolutamente è un libro molto esplicito devo dire passiamo ai regali di natale allora anche qui non vi aspettate chissà cosa chissà quantità di regali ecco però sono veramente 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 soddisfatta allora primo regalo di un mio amico per il secret santa mi ha regalato una cosa bellissima che è questa tazza di harry potter nera è bella grande io adoro le tazze grandi così ci posso mettere grandi quantità di tisane è della mappa del malandrino ed è una di quelle tazze che con il caldo magari vi ho fatto un video penso magari ve lo metto qui con il caldo diventa proprio si forma anche il disegno e il colore della mappa del malandrino quindi da fredda in ira ma da calda e gialla insomma giallo calda e bellissimo io impazzita me l'ha presa in Germania quindi non so dove la potete trovare qui in Italia però probabilmente online si trova e veramente contentissima anche con le cioè unire anche con i tazze tisane e harry potter si fa sempre sicuro con me veramente sono una persona secondo me molto facile fare regali devo dire bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi una mia amica mi ha regalato questo bellissimo, anche lì vedete se io ho un piante, come si può sbagliare? Tra l'altro adesso che lo guardo sembra troppo una mandracola, bellissimo, bellissimo. E comunque questo è un bonsai di figus, non so se lo sapevate, io non lo sapevo. Il bonsai non è una pianta, è una pianta, nel senso non è un tipo di pianta, ma è una pianta, semplicemente il termine che si usa per delle piante trattate in modo da rimanere piccole. Quindi ci sono i bonsai di ciliegie, i bonsai di figus, i bonsai di un sacco di piante. Il bonsai di ciliegie dovrebbe essere meraviglioso. E questo è appunto un bonsai di figus. E' stata molto carina, devo dire. Le altre foglie sono lucidissime. Troppo bellino, troppo bellino. Regalo specialissimo per me, perché da parte di una ragazza che mi segue, che ringrazio. Non voglio rimanere anonima, ma mi ha fatto un regalone enorme con anche degli oggetti da usare nei video che vi mostro più avanti. Ma ho preso come rappresentante tutta la box. E' una tazza con scritto We Whisk You a Merry Christmas, bellissima. Ed è un set per la cioccolata calda. E c'è praticamente, ci sono tutti questi oggettini. Una frusta, una tazza, un cucchiaino e uno stencil. Penso sia qualcosa per appoggiare la tazza, ma devo ancora capire. Comunque, direi di sì. Bellissimo. Bellissima, è stata dolcissima e ha ringraziato tantissimo, perché a me non è l'oggetto che mi rende felice in questo particolare, anche in piacità. Non è la felicità, non è dovuta proprio anche al regalo bello in sé, ma proprio al pensiero che una persona voglia farmi che non mi conosce, cioè che a cui non ho fatto niente. Non so, ci tenga a farmi un regalo per ringraziarmi del mio lavoro, della mia passione, cioè rimarrà sempre strana questa cosa per me, però mi ha fatto veramente tanto piacere perché questi gesti più che altro mi fanno rendere conto di quanto impatto possa avere sulla vita delle persone. E quando alcune persone si siano affezionate a me, genuinamente. E vorrò incontrarvi tutti da vivo, ve lo giuro. Prima o poi, un altro regalo. Vi faccio vedere sulla rappresentante anche qui. Praticamente per il compleanno e Natale, mio zio e la sua moglie mi hanno regalato questo set di Dezenis, questo set morbidoso, picorosolo, lo definirei, con filpa, pantaloni, fascia e pantofoli e stivaletti di un comodo e di un caldo. Sono fantastici, li amo, mi giuro proprio per lì. Oddio che bello. E qui ci sono ad esempio i pantaloni, ve li faccio vedere. Siete proprio morbidosi. Io impazzita, ovviamente. Con anche le tasche. Con anche le tasche proprio. Ed è tutto un set così, super caldo, proprio con forzone infernale. Bellissimo, bianco, proprio anche bello. Super apprezzato. Mi fa dire contentissima. E poi, vabbè, mio nonno mi ha regalato i soliti soldi. Ah, poi, ultimo regalo. Bellissimo, che mi hanno fatto i miei, l'hanno fatto i miei, il mio marito, di Natale. E questo quadro che vi sto facendo vedere ora e su cui farò del tracing. È enorme questo quadro, non l'abbiamo ancora appeso perché andrà al piano di sopra che dobbiamo cominciare ad arredare a gennaio. Finalmente, dopo un anno. E' appunto un quadro, è proprio, se volete vi lascio il sito, sono bellissimi i miei quadri dipinto. C'è proprio un quadro, si vengono proprio le pennellate. Si chiama Bees Apple. Ed è appunto dello Skyline di New York. E a me non piacciono i quadri troppo colorati, soprattutto mio marito. Però è misto fra neutro, ma con un tocco di colore. È meraviglioso, meraviglioso. E non vedo l'ora di appenderlo. E sicuramente di questo male, si chiama, penso, Agave. Agave, non lo so. Prenderemo anche un altro quadro, mettere in tamera perché sono veramente bellissimi. Alcuni sono un po' astratti, molto belli. Io e mio marito non ci siamo fatti regaloni. di Natale, perché non ci serviva nulla. Penso, ci avevamo detto che ci saremmo regalati il corso di diving. Insomma, lo faremo, non ho ancora comprato, però lo faremo. E questi sono stati... E basta. Questi sono stati i miei regali di compleanno e Natale. Ditemi se volete quali sono stati i vostri, o anche solo quale è stato il regalo che più vi ha sorpreso e vi è piaciuto. Io sono molto soddisfatta i regali quest'anno, ma in generale non mi aspetto mai molto. Quindi, mi fanno sempre tutti davvero super piacere. e soprattutto non pretendo tanto, ecco, perché se c'è una cosa che veramente voglio, lavoro e me la compro, insomma, non mi sembra giusto che neanche... Boh! Gli altri... Cioè, di dovermela per forza far regalarti agli altri, non lo so. Comunque, mi faccio un momento via. Massimo da mio marito, mio marito sì, e io penso proprio, penso proprio, penso proprio, ma penso proprio, 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 si è aggiunto all'ora, a a a parar e ora non buona 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 sognitor , Geniano 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 buona notte buona notte buonanotte 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 mi pico di strufoli un bacio nebola che li spera